Il piacere in splendida forma e il claim che accompagna DeFore, la nuova BMW Serie 4 Coupé che definisce un nuovo stile di guida coniugandola a un design elegante. La concessionaria D-Motor, per presentarla a dovere, ha organizzato un evento rigorosamente online in linea con la normativa vigente. Affascinante adrenalinica, sportiva ma dotata di ogni comfort, non bastano gli aggettivi per definire quest'auto che fa da apripista una nuova linea di modelli che la casa automobilistica tedesca sta mettendo sul mercato. La caratteristica principale è la sportività, la sportività in tutti i modelli e in tutte le motorizzazioni, dai motori diesel, mild hybrid al top delle loro categorie fino a salire alla nuova M4 che uscirà a gennaio, che avrà 510 cavalli, macchina dalle prestazioni assolute che può essere usata quotidianamente, che ha quattro posti veri, che ha un bagagliaio eccezionale che ti permette sia di lavorare, sia di andare in vacanza, sia di andare a fare un weekend, quindi sportività a tutti i livelli, a 360 grandi e grande comodità e grande compa. La BMW con questo design ha osato, ha osato in modo estremamente positivo, abbiamo già visto l'entusiasmo dei nostri clienti, l'entusiasmo del pubblico. La presentazione online, seppur inevitabile a causa della pandemia, ben rappresenta la tendenza sempre più diffusa anche nel mondo dell'auto di comunicare attraverso i social che raggiungono un ampio pubblico ovunque. Opportunità che anche a DiMotor sta cavalcando. In questi momenti, dove è bene il distanziamento sociale, sono rimasti gli unici strumenti per poter comunicare nel quotidiano con i nostri clienti che stanno diventando sempre più follower. DiMotor è presente in tutte le piattaforme web, abbiamo fatto passi da giganti in questi ultimi periodi, si è amplificato di molto con il Covid, erano comunque passaggi già messi in atto, ma con l'evento Covid siamo andati molto più veloci. E seppur le nuove tecnologie offrono suggestive esperienze sensoriali, per toccare con mano le caratteristiche della nuova BMW Serie 4 Coupé, è possibile visitare la concessionaria DiMotor nelle sedi di Perugia, Foligno e Siena. Grazie a tutti.